Le festività pasquali sono appena trascorse, come è andata sui sentieri del Parco delle Cinque Terre? Facciamo un bilancio della situazione. Sui sentieri abbiamo avuto dei flussi abbastanza sostenuti, nel senso che a Pasqua circa 3.800 passaggi sul Vernazza Monte Rosso e lunedì di Pasqua siamo sempre sui 2.800 passaggi. Quindi il flusso in paese al solito delle festività pasquali è abbastanza sostenuto, soprattutto a Pasqua. E lunedì di Pasqua eravamo un pochettino su dei numeri un po' più bassi, più gestibili. Comunque il maltempo, il previsto maltempo non ha rovinato questa festività pasquale? No, non ha rovinato perché non è piovuto, però comunque a Pasqua abbiamo avuto una mareggiata molto importante e quindi avevamo il problema, oltre che della presenza in paese, anche di fare delle opere di tutela di coloro che si avventuravano, nonostante le barriere sul molo, a prendere le fotografie. Quindi abbiamo avuto anche un problema di monitoraggio sul molo perché la libecciata era tanto forte. Un bilancio positivo dettato anche da una nuova modalità di gestione di flussi sulla sentieristica. Sì, quest'anno abbiamo sperimentato una nuova modalità di accesso che è stata quella di rallentare l'ingresso. Abbiamo messo insieme una collaborazione del CAI, del Soccorso Alpino e ai punti di ingresso del sentiero sono stati rallentati i flussi, un po' come succede nei musei. Cioè quando una sala è piena la gente aspetta con educazione che qualcuno esca e quindi poi viene richiamato a entrare. Questo ha consentito di non avere quei picchi, quelle concentrazioni orarie che avevamo riscontrato lo scorso anno. Lo scorso anno avevamo avuto dei passaggi tra mezzogiorno e luna, intorno a 800 passaggi l'ora. Quest'anno con questa modalità siamo andati sui 500 passaggi l'ora e quindi sono un po' su quei limiti che ci siamo prefissi di mantenere quest'anno proprio per garantire una fruibilità diciamo più sostenibile per quelle che sono anche le caratteristiche e soprattutto la percorribilità del sentiero.